Dico tre Quattro Ci dovremmo essere E sette, otto Ciao Olives Ciao a tutti ragazzi Ben tornati su No, non so calibre Non posso fare Mi piace un tarantino calibre Guarda, mi pare la musica Allora E chi è questa amicizia? Schifo, accetta E ieri abbiamo giocato due insieme Ancora mi deve accettare E dimmi se è normale Dunnino Glettamento squadra Glettamento Io mi gestisci Ah, quando gritti sul personaggio Io cosa ho? Se fai i gestisci No? Il femminino quant'è? Zero Anche a me? Sì Ma fa il culo Tutti zero Espelli questo giocatore No No Aspetta, io non ho messo il C'ho ancora schermata quella lì Dei screen server Eh, magari no Il logo non mi gioco strumento Non c'entra Ok Adesso ci siamo Vado di pronto? Vado di pronti Tanca lei, zio Quanti secoli mi ci vorrà Se regge il mio computer Una connessione Poi che mentre fa matchmaking I framerate vanno giù da panza Proprio Me lo noto io c'ho tutto low, 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 low Io c'ho tutto a ultra Ah, vabbè, voi siete sboroni Eh Io vedo da qui a 5 metri E più me dovete difendere voi Bene Sarai utile Sì, sì No, io c'ho proprio il pupetto in pixel Perché se no non mi gira Quindi io vedo praticamente Già quando è a 5 metri Già vedo i scatti Quindi A meno che non sei Ma lo dobbiamo prendere un pc decento Continuando in giro quella vacuna Sì Adesso Quando un attimo Riesco A finire Di pagare il cellulare Forse Forse Ci abbiamo insieme a noi Pussecatten Eh Il nome dice tu Pussecatten Pussecatten è là MisterLoll è di qua Dai MisterLoll Che cosa sta laggando Eh Già È sette volte che torna Allo stesso punto Mia Basta Cos'era Ma eccolo Vieni qui che te zappa la faccia Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Coglie Ma soprattutto Sì facciamo il trio Yeah Sì Bisogna essere sicurizzati però Dai Le 1 Le 2 E 3 Ma ha preso Sto figlio E questo Questa è la tipica lettura Nella del rezzo Sì 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 Hai capito Wow Winmill Winmill Aspetta Winmill Aspetta che metto la sensibilità a palla Esatto Esatto Sì 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 No Fai una palla Con la sensibilità a palla Scatti tutto Non si vede che frulli E portiamo la sensibilità a palla Non ho chiamato la testa Eccoci Dove si va? Andiamo andando per il Cut Andiamo Qua Qualcuno I can't believe I can catch this guy Minchia distante eh Eeeh ci arrivi voglia Tu scatta e non sa che Si sono persi Ci arrivi voglia Qual è quella giù in fondo? Laggiù? Sì 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 Minchia Te fidi di me Te fidi di me Sì 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 Partito puntando troppo il basso Adesso Sto volando Non arriveremo mai Noi Ma aiuto Ma aiuto Ma tu senti manco più le cause? Io so il vietro come le palle dei cani Ecco Adesso con l'ombrellino recuperiamo strada Non ci preoccupate Sì Comunque è un pino l'ombrellino Ma c'hai anche te l'ombrellino? No Qualcuno Ah sta deviando È uguale a cosa Adesso Cambia solo la skin Non ricorri C'è solo Cominciamo un po' di qui A te pulici lì Oh una pistola C'è un tesoro Ti sento La mia identità Ma che roba ce l'ho se volete C'ho già un fucile a pompa Oh c'è la pozione qua Io c'ho 2k Vedo la pozione Ok Bene Tratto l'holle Siete questa? Oh Qui c'è la pompa se volete Ah qui c'è la pompa se volete Ah già uno ce l'ho verde Di quello merdoso No quello Quello Fattore Questo movimento qua davanti Olio cuore La casetta ci siamo andati No adesso ci vado Minchia che laggate Uh Proiettili No succede con l'altro Il più che c'è la pompa Vedo lo skipper Lì avete pulito? La casa questa qua sotto Si Allora dove Ah noi stiamo facendo il cerchio Eh no sono fuori Le pokémon Si vabbè Andiamo andà Per la casa qua Quella l'ho fatta Quella già l'ho fatta L'ho fatta Ok In caso manca questa Sto Eh c'ho 2 minuti e 20 Ehm Vamo in tempo Tranquillo Così corre il batman Eh cazzo È la Peasant Park Non solo Bravo lo stesso Due minuti Due minuti Due minuti Quale è roto? Che cazzo Oh c'è qualcosa qua sotto La pistola L'ho volto di pistola Come siete messi? Pistola fuciva Ehm Pianna K Dove sei? Ok Ah è qua Vaffanco Oh Sì Dopo che scade il tempo Magari Sì Stai tranquillo Dopo che scade il tempo Si deve avvicinare il circhio L'ansia L'ansia Ok Lo so Ma passiamo qua Ma fammo un giro Batman 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 Uomo pipistrello Tra l'altro sei camperato a Peasant Park Ma se rimane lì ancora un po' more Per lo scopo era quello Qua di qua di qua Dove state? Uh Ma non sto ragate? Mi Tre per oggi Non mi sembra Stabile Stabile Corri Lorenzo Corri 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 C'è fammo sgama Sopra c'è una casetta E lì c'è la torre Poi Eh appunto Diciamocela noi Prima che c'erano loro La squadra SWAT Poi vicino ai Bucati Così dobbiamo difendere il lato solo Quella è sbagliata 2.59 Ma non Stragate Ma dove siete vestiti uguali? Senti Sì Sti razzini Siamo le cemelle Tuscata è morto Ah no si muove Tuscata Cos'è di stare pronto a noi? Siamo The save zone Ora salta lui Andiamo alla casa Ecco l'ho detto che moriva È rimasto l'industrato Prima il coglione Ma porca Aumento le munizioni Questa far guardia Voi state a Andiamo qua a casa Andiamo sulla casa Qualcosa dentro? No non c'era Cazzo Vado a vedere questa qui sotto Ok E' che sta a sfondare le pareti Pimo Servire un po' di materiale Sì Che arma c'hai Lory Questa Che arma c'hai? La metraglietta e una pistola Capite pure un po' un pozzo Dove è? Un po' un pizzo Sì Qualc'è il parco giochi Qui Sento un cantinello circondato Mi è rotto l'altro Qua vai dentro la casa? C'è un po' un po' bianco dentro Vediamo un po' Oh c'è un oro qua La verde C'è Kino C'è Kino C'è Kino Mi piace C'è Kino Uscire da Cekins State colpi Ci faccio un cazzo C'è un coso Una avena qui Oh c'è un altro mitragliatore Proiettili Qua c'è un mitragliatore Se vi interessa Vedo il cecozzo Sì Sento sparare o sbaglio? Sparano subito Sparano poi Con la fortuna C'è anche il tesoro qui Ah ma è passato Sparano di minchia Posso capire la musizione? Ah ma bisogna che corriamo Dove? A Greppi dovevamo andare La salvezza Facciamo due minuti Dioia Corre Batman E con agilità Sparano che scelta di qui? Sì 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 Da fare un po' di appostamenti Sparano di minchia Sparano di minchia Sparano di minchia Sparano di minchia Spari Cosa? Spari Non ho capito da dove Spari 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 Ah Lì c'è un muro Cosa C'è una buona visuale Sì Player Ovest Ovest Due Dove? Non è ancora in mezzo alla Buscaia C'hanno visto? Visti? No C'hanno visto Io non li vedo Sembra 285 Verso 300 285 Dai alberi Adesso è Nord-Ovest Intanto avanziamo Eccoli Di me davanti Se si lo viste 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 Lì c'è se verrebbe il cieco Dai Se volete ve lo Verso destra Oltre 300 Che scade la cosa Faccio quello da voi No a casa Volete voi c'è chi? No 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 Vai dammelo Eh? Come si fa? Eh Lo dico alt Aumentario E lo butti via Alt Sono dietro l'albero Fermi Sì Cascina sul cestino Ah il cestino dov'è? Ah qua Raga c'hanno Tre secondi Poi comincia A arrivare L'aria Ah un colpo solo Merda Dove che stanno? No Adesso sono dietro la casupola No stanno a corre Sì Oltre a casa dopo Sono andati Tra il legno dopo 3-3-0 Ho visto Intanto prendiamoci La schiena sicura Io sono dito a ricaricare Avete voi? Sì Io no Con mitragliere E vado Uh Qui hanno lasciato questo? Un po' più Guarda l'altro C'è stato un po' Ma cosa? Andiamo un paio D'alberi avanti Che se no Non rientriamo Nel zone Esatto E loro puntano A sinistra Ma non si è qui va? Un po' l'altro Ma dopo Siamo andati Siamo andati Se vi chiude Poiete il 10-24 Mi sa che uno So Alla Prova a vedere se questi Per il fucile Ho sentito i rumori No Questi è i medi Allora C'ho quest'altri Ah Quelli pesanti Ci vuole per quello Aspetta un po' Questa Guarda se ce l'ho anch'io Questi pesanti Sì Esatto Ce l'ho Ci avviciniamo Un po' Più a ovest Sì Passando per il bordo Vedi kit Ne abbiamo? No C'è solamente 5 band Uh Ce n'è difficile Minuto Tempo c'è Il tempo c'è Noi dobbiamo decidere Dove salire Io trovo il salere La pianura Quasi 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 Che la Palazzone Eh Lì siamo aperti Come un coso Salimo al palazzone Dai Eccolo Movimento davanti Falli immazzare Falli immazzare Sono qua sotto Occhio Arriva un missile Ci ha sgamato al volo Mi sa Ma che era per noi Uh E' indato E' morto Morto Sì E' morto Morto E' che cazzo Ma sapermi è piena Comebbe da sopra Dietro del sopra Dei teale Oh Eh Porca puttana L'unico angolo Che ero scoperto E' lì sopra ancora E' lì proprio di sopra Andato Indietro Indietro E' dietro E' dietro E' flanca Flanca Ok Si è fermato dietro al muro C'è lì davanti Bravissimo Mi mette un attirà su però No a destra c'è un altro L'ho visto L'ho visto Ok Avevamo dato un botto De roba Morti A posto Come ha fatto A sghamarci di sotto E' dall'alto Se c'è il dosso Te non vedi lui Ma lui può vedere te Con la terza persona Ah ma poi C'era il moribondo Ah vedi Non fa niente A sapere che Sparare io o meno Non ero mai arrivato al moribondo Io Devo più al punto La k che è una monnezza Io mi sono levato Un po' più preciso Delle m16 L'ho levato dalle balle Eh ma fa le raffiche Eh lo so Anche a distanza L'ho chiappato Eh ma se c'è un m16 C'è caso Che lo Chegavo Ah si può essere Ascolto l'avvicinato La k non va bene Un po' prendi in testa Eh ho troppo vicino Per il cieco Adesso hai server L'umestory Lo abbiamo Bello c'è il nero Bellissimo No ma te non puoi capire Quanto è sgravo Questo personaggio Perché due volte Che mi imbusco Da una parte Di tuo muro E la gente non mi vede Ma davvero Oh qua Cos'è sta roba qua Una volta ero sul legno La torre Nello spigolo Appoggiato così Uno è venuto da dietro Non mi ha visto Ero nello spigo Cioè ero lì Un po' sul legno Non mi ha visto Mi sono girato L'ho soltato Beh è un coglione lui Però Fossi piccolo Cazzo Armadio Questo gioco Potrebbe essere carino In tv All'2018 C'è anche la A parte tv E' gratuita Come si fa A parte di Il fana Non lo sapevo Questa cosa Ma le armi Che ricevi Nel gioco Qui Niente Pregna Che senso Ho visto che c'ho una pistola Ah, quella è solo per cazzo Ah, ok Eccoci Però la mappa potevano cambiare ogni tanto Per sia randonica Che dite? Non c'ho la bottiglia, devo vedere Per sia Lumi Segnano Archi Cress, ma lì secondo me Io me butterei qua E' morte assoluta E io dicevo qua su in cima Archi No, più in su Ah, ok Vai, vai Mi sento tutta Oh, il quarto c'è... Pollo, qua Segue Eh, quanto è un altro tipo a votazione Eh, qual'altro ho fatto come cazzo di varia Poi è rimasto fermo in AFK ademoto Tutti sulla casetta Quale è il tetto sa di gare? Questo Allora adesso lo stavano già con le lecredite 16 Se si che se colpisci dove te viene indicato il mirino lì rompi prima Ah beh Perché? Quando picchi il muro vedi che intanto viene fuori un mirino E che cazzo E va fuori C'è un mirino blu Se te colpisci lì E' tipo il punto debole O la trappola Quindi ci metti nemmeno A buttare giù una roba Soprò immagino già è pulito Io ne ho trovato un cazzo Io ce ne ho abbastanza Può pulire scuso Ho un'arma Oh vabbè Oh vabbè Oh vabbè Non era mai successo non trovare neanche una pistola Oh vabbè Ciao come Ehm Ehm Pistola Pistole Mi ha fatto No Mi ha fatto No Mi ha fatto Scusa Mi ha fatto La zona è parecchio distante Dovemo volare Lume Ci ha abbandonato Lume E' stato sparato Le bestie Quella non c'è quella Quella incazzata Oh Che vera Ah ecco lei laggiù Che cosa si parate qui Verda verda Via 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 Dove? Dove dove Direzione A ovest Stai dietro al muro Su dove? C'è un'altra M16 qui Chi siete? No ho sbagliato minchia Là sopra c'è un'altra M16 anche la pezza Io c'ho già la M16 eh Ok E' distanti qua pistolina fai cazzo? No C'era proprio intanto Uh Sta da qualcuno Uh è morto uno Uno vedo io Uno è morto Per me Ecco occhio Mai sta fermi Mai sta fermi Eh no non c'ho fatto Uh questo Ma col medikit Ottimo Il cecchino Già hanno trovato il cecchino loro eh Detro al bordo della casa Si ma ma avete incastrato dentro il mortaccio guarda E' mezzo E' mezzo morto Bordo quale? Quale casa? Casetta davanti a noi I mattoni scuri Ormai c'è alcun altro Si questo ha creato Non va dire che il tettonico E' attraversando Ecco sto passando l'albero Preso E' morto E' uno sulla strada In fondo Due quaranta circa No non è vero Due cinquanta e cinque Io sono arrivato Intrappolato Spacca Spacca Morto? Chi è il mast? O io c'ho una cappa grigio Eh scusate Un... C'è da l'assalto Chi lo vuole Morti tutti? Chi è il mast? Dentro la casetta mattoni Poi i colpi Oddio Dentro la casetta mattoni Ma va? Ma va? Questo Che fa sempre comodo Ma può essere la pistolina del cazzo Ah si passi Ehhh Da qui è un bordello Se passiamo in mezzo alla città Siamo con 17 secondi eh Passiamo a sinistra Andiamo però Perché so non c'ha Avviciniamoci Le nudi è stai ginocchiato Non lo sentire ne piate bene Ah si? Eh si Però attacca a corre Esatto Meglio che sei più veloce Muoviti Che c'è altre due edifici Siamo già nella safe zone oppure? No Ancora no Spero giù c'è un po' di roba Quanta gente era Quanta gente Quanta roba Ah Ora c'è sul ponte c'è Uh c'è il giallo qua C'è il giallo Pompozzo Quanta trappola Prendi trappola Prendi trappola Prendi trappola Prendi trappola C'è uno ce l'ho Qua devo dicere doppiazza auto Ebbè è rimasto dietro Rume Stiamo provando adentro O Lassando Stiamo a fare un giro dai Stiamo a sopra Guarda lo cazzo è rimasto Quanta sta la metà trappolata il ponte Ma inutile Ok da tra poco diventare una zona Flag normale Ok Oh Qua ho Qua Tappolone qui 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 alle sono proprio sulla cresta Ci vedono Da qualsiasi lato No Uh Di dentro c'è una cassa Vero? Vai 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 Rume Vai Mezzo No mezzo qua C'è un medikit lassù in cima Vabbè L'ho detto Più da dentro Dentro Entro Ah Buscamoci tastarci qui Qua Sperti Siamo in safe Ok Sì Ari aperta qui eh Siamo scoperti da tutti i quattro lati eh sopra noi ci potrebbero arrivare un pezzissimo vettura 360 perché non mi lascia la roba per terra? è da voi ma perché va in giro con il picco? prendete le bandite ah il kit medico prendete le bandite io non ce l'ho aspetta che devo un'arma non la vuole sto tizio non ce l'ha ecco si sto facendo così la gente non me vede ecco che è arrivato il eh ovviamente e che cazzo ma che sfiga eh niente ma io ho macinato eh vabbè le prendo stiamo per qui ah per me vabbè ma usale eh no no ho preso il sol 3 ce ne avevi gli altri aspetta usale aspetta usale si si no lo usate già aspetta no altre 3 grazie scusa tanto che per con al massimo al 75 si si esatto 60 stiamo andando scusate la soddisfazione è che ho ammazzato due persone con le trampe davvero? ah si ottimo le partitele prima si tutto in mezzo è come se qualcuno mi stesse osservando occhio occhio no è una forfallina è solo una forfallina nel cazzo correte amici correte verso l'infinito è oltre fatevi almeno voi in ordine spazio con le armi viola blu arancioni lampeggianti il massimo che trovo lì quelli da intermittenza torre andiamo ci c'è la torre andiamo morì alla torre nord-ovest 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 c'è gente? si ecco là adesso ha 300 ecco lì la hai visto visto facciamo andare? vedo uno solo è l'Ume che c'ha il fucile c'è chi oddio sta puntando se gugio cadassi gugio ecco lì la stanno costruendo ah si eh si prenda su noi da l'Ume non potremmo rimanere comunque ma non lì però il lume va è nord lumi di quello qui non siamo comunque in safe ma fa cura arriva arriva il cosa ah vai ecco i rilassi sono salvati dici lume eh si lume stanno da solo pure eh insomma morì allora poi o dietro due due a est cento cinque cento venti c'è un altro che saltella lì si io sono fuori safe però eh è quello la faccio sparo io oh aspetto carico dentro la roccia preso e che cristo vuoi morì è un altro ancora dai via via corri 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 Batman corri vai 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 chi è che gode io sono un safe salve safe però è che loro non li vedo più il cristo ed è qua ed è qua su destra è costruito lume che sta sta ciullo a tutto cosa ne è costruita pure quella su destra oh c'è gente anche dall'altra parte eh giù una casa opposta a nord ovest pura meglio sono più al filo della safe stanno cazzo sto facendo quelli là saluta a quell'altri eh si ciao 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 user left your channel visto quello lì quell'altro dove è andato sono morti morti o sì ma che sfiga no ancora su vivi questi ho detto il muro c'è la casa a nord ovest casa a nord ovest non bisogna che ci troviamo dal cazzo qui siamo sotto di un'aglia eccoli che corrono stanno andando verso ovest loro c'è il cico c'è il cico me sa chi è? 50 dove? 150 stanno andando a mezzo al bosco 30 secondi bisogna essere da tutt'altra parte minchia ragazzi quello si sta a buscare quello si sta a buscare andiamo via una tirata uh 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 sparano da dietro da sopra ahhh c'è davanti c'è davanti no da dove è che l'altro che mi ha sparato da sotto ma va fancuno da dietro l'albero ovunque prova risponde la laggia uh 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 ma se spara sa se spara questo è buono ma perché mi fa vedere e da sto morendo morirò sicuramente anzi eeeh ce ne hai due che ti stanno sparando posso non ti mettermi niente è morto cazzo ci siamo ritrovati in mezzo a tre gruppi cristo proprio posto dai siamo migliori eeeh guarda karma che ci aveva stupersi di merda cioè noi mai ci ritrovavamo una volta io il cieco automatico non l'ho mai trovato prima la mia prima la mia primissima partita perché so atterrato ho trovato una pistola sento i passi entra uno con un fucile la pistolina lo ammazzo gli ciullo il fucile faccio altro tre kill che stanno negli un fondo della collina poi faccio dieci passi in fucile morto così è la tua legge da vinto sei i roly eh sì scusa me l'ho fissato un attimo guarda la loro partita sto arrivando brr braccamenta guarda un 15 minuti per ricaricare tutto un attimo eccoci un attimo un attimo un attimo un attimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, se vai in giocatore singolo a squadre... Ah, e vabbè, bisogna anche vedere se ti buttano lo stesso server. Eh, quello è già difficile. Ah... La gente qui trova se ha belle armi, le bombe, le lanciamini... Come un cazzo... 3, 2, 1... Vabbè... Come te la... Cazzo il 3... A ballare la liga, invece... Ok... 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 Guarda lì... Oh, giù dritti sparati con un coso? A chiodo. Ah, a chiodo? Ok... Anche un po' prima, in realtà... Ok... Rimango in attesa, quando di te parti, io parto. Ok... Andiamo adesso. C'è già uno... Due che stanno andando nello stesso posto nostro. Eh... Preparate i piccoli, lucidateli. Mi butto nella prima casa che trovo... E prego che ci sia un'arma. Esatto, io... In questo caso altro qua vado. Sperando che non ci sia già... Tutto, ridendo. Dai, dai... Scendi veloce, scendi veloce. Quanto sei lento, a che scende. C'è gente che spara. C'è una cassa dorata, c'è una cassa dorata. C'è un cazzo qua dentro di mortaggi. C'è gente che esce, che entra. Oh... Ok... Pistola. Dai! Muore, Cristo. Muore, c'è pronto. No, cos'era? La bomba? Più di colpi, non ci credo. No, so a terra, so morto. No, zitto che ho lanciato una bomba e sono moribondo. Come si fa a rivivere? Io ho tirato due caricatori di questo mitrino e non gli ho fatto nulla. Sono moribondo. Dove sei? Eh, anch'io. Siamo qua. Ah, siamo tutti il capo. Ottimo. Ancora non mi ha ucciso. Adesso mi fa fuori. Bianca a me. Io ho proprio una garza lì davanti e non posso fare un cazzo. E' come prendere piccolate lo stronzo. E' muoio. Sascosto. E' lì da fuori, eh. E' senza munizioni, se c'è un'arma. Io so qua. Qua è pieno di armi, se viene il quale. Ho ammazzato quella di prima, ma... Posso cambiare il personaggio? Guarda. Come faccio a cambiare? Prega, non ti può. Perché c'è un serra? Non voglio vedere serra, mio. Eh, non vieni qua da me. Ah no, questo sei te, sei. Ale? Eh, sto venendo, ma non... Dalla parte opposta, Ale. Ah no, sto lì, sto lì. Sì, scusa. E qui sei? Sei dentro, merda? Eh? Sì. Sei dentro. Oddio, oh! Chi è, sei te? Eh, eh. E mi fai lì. Ok. E' infusione... ...donde? È la sola imbolizzazione della mani. E' all'obita. C'era un po' di roba di per terra? Ho visto un po'. il mitrina è una merda atonica fa dieci dieci a colpo c'è qualcuno corre qui le fuori ragazzi la su c'è il baule se la mette qui dietro a qualche parte no vi siete fatti poco sentire no te vai no più io pia pia ok qualcuno è fuori si ragazzi domandatela mettiamoci qui in mezzo intanto cerchiamo che cazzo fa esce dentro c'è qualcosa c'è qualcosa è la pistola del cazzo è la pistola del cazzo è la pistola del cazzo ma è il terzo che è finita è il quarto che è finita non ce l'avamo mai avuto non ce l'avamo mai avuto c'è un fucile pesante due davanti a noi due davanti a noi forse tre resta un fucile semiautomatico una barricante sta casa qua secondo me l'avevi vista eh sì esatto a sinistra due due che vanno verso nord cioè nord-est a trenta non capito aspettano l'hanno vista quattro è il salto le tre potenze qualche uno deve sapere sopra sulla cuore destra guarda sopra guardate che mi sentono guardate dietro no questi sono andati via sì su quelli che andavano si si è accorti ce n'è qua a nord proprio nella N dove c'è la casetta ce n'e due stanno a sparare per adesso stanno a fare crafting due alberi sta verso nord-est e poi è tagliata la strada mentre adesso gli ui si chiama pazzi dopo su a torre stai a fare il giro teale sto qua su in cima e da te con la sua ale no ce n'è uno sulla torre la torre lassù è il giro dietro a noi? dietro a voi? dietro si, a nord ovest a questo qua su il fumo che vede la corsa vado su siamo bubussette a te si fanno un casino c'è la cassa di munizioni dietro a voi no che non è vero, vedi una cagliata fugita oh, vieni, da dove? io dove vuoi? è spalle, è spalle spalle di chi? di là fatti più a sinistra ne due che stanno andando a nord ovest si vabbè ma che sfiga vado una volta cerchiati? no facciamo la safe zone in giappone, corremo oh, ha fatto il pelo col cecchino eh vai, corri, 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 corri finca stante le piante tanto non ce la fanno i baci si, si ce la fate, ce la fate corri forest boh, c'è fosse una volta che si chiudesse da noi eh finchia la strada che devo fà non c'è distante vuoto tipo che sta dalla parte opposta oh, c'è una città pure in mezzo, come la famo? eh, la differenza dovete saltare vedi qua andiamo alla larga stiamo qua sotto almeno bassi la schippamola grande mazzane prima, intruire la famo e fu qui e fu qui e fu qui e la vuoi ancora? no, dai cazzo va bloccata dai, forse ci aff***vamo in 26 secondi oh, c'è robe dorate davanti a noi cazzo il cecchino ah, il cecchino, no, quello bisogna fermarsi per forza via te, via te che sei più bravo te guarda, io provavo a guardarne 5 metri intorno a noi oh, l'orata pure presa ho un shuttle maker, due macinate, macinate dai, uh, sparano sparano corri Ale corri 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 correndo c'è qualcuno a destra vedi? dai, procede davanti a destra oltre gli alberi lo vedi? quanti a te? è l'ori quello ah, non mi fa vedere nulla veni via veni via eh, quindi barricatevi dentro città, che cosa oppure andate nella torre elettrica e oltre c'è gente c'è gente dentro dove? c'è gente dentro andate via lì dentro è dovuto fin cima alla culina si un intero gruppo basso dove? uno è, uno è sdraiato eh ah, da parte mia è morto è già finito si, si stava scontrando con un altro gruppo dov'è? dove sei? oh dove dove andare? dove dove andare? o tenete in aguata queste qui appena ne venne usci aspettate dire un angolo sul coppio e le escono infrivellate eccolo in altro davanti davanti davvero vi ritrovate dietro uno davanti davvero c'è la testolina vai 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 che succeda sopra la collina c'è un altro occhio uh siamo la siamo la dietro dietro la cosa dove c'è una collina è morto è rimasto quello là sotto piccoli a sinistra aspetta le emozioni su questo ah c'è un altro là sotto c'è un altro là sotto è morto no no sopra voi eh ve lo vedete ragazzi rispettate quelli dietro niente sono lì che male abbiamo dato pure la roba da via torniamo a casa aspetta faccio un altro poi vado su dat che so un ok vado a po' da nanna eh vasale faccio un altro e poi vado a nanna Ah, che era? Popsia, metà Grazie a tutti. 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 Hello boy. Io? Grazie a tutti. 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 E' sopra. This is a tutti. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. Serio? Grazie a tutti. Yeah. No. No. Ti va bene. , grazie a tutti. No. Ciao.